Ciao a tutti, sono Diego Rosa del Team Sky e voglio ringraziare BauerFan per questi clientari che inizierò ad usare da oggi, il personal best di Giorgio Balocco per avermi dato i contatti, Daniele Galletti per aver lavorato con me, il senso trainer e niente. Da oggi inizieremo ad usarli e vi dirò come mi trovo. Grazie Diego.